buonasera a tutti sono tiziana baccaro per rete informazione europea da mannaim oggi il giorno lunedì 14 dicembre 2020 sono le ore 21 e 52 ecco oggi mi sono un po ho impegnato un po del mio tempo a redigere una statistica basandomi partendo dai dati pubblicati dal robert kock institute che in germania è la e si chiama nella sigla r k i la situazione aggiornata alla giornata di oggi al 14 12 2020 ecco come dicevo oggi mi sono impegnata un po in questa statistica ho redatto una mia tabella partendo un po da un da una mia personale curiosità per cui ho redatto una tabella per conoscere un po la situazione dei casi positivi nella mia città dove abito a mannaim nella regione e il baden guttenberg e in tutta la germania per cui ho preso dei dati sono partita dal numero degli abitanti quindi la popolazione che ha mannaim sono 310 mila 658 abitanti e abbiamo dei casi e di positivi al covid complessivi quindi dall'inizio della pandemia fino a oggi di 6451 poi abbiamo i morti in questo numero sono inclusi i morti con covid e i morti per covid il numero a mannaim è di 71 persone che facendo un semplice calcolo rilevo un tasso di mortalità che pari allo 0,0228 per cento quindi le persone diciamo da questi 6451 casi positivi presumibilmente a oggi sono ancora in vita non posso dire che siano i casi di guarigione ma è che sono ancora in vita che una parte saranno sicuramente guariti una parte sarà ancora ricoverata in ospedale o malata o solo in quarantena a casa purtroppo questo dato non sono riuscita a pervenire a questo dato nel baden guttenberg cioè a livello regionale abbiamo una popolazione di 11 milioni e 100 mila abitanti i casi covid sono stati dall'inizio fino a oggi 188 mila 241 i morti con e per covid sono stati 3425 e qui abbiamo uno 0,0308 per cento come tasso di mortalità presumibilmente quelli quindi ancora in vita che sono guariti o in via di guarigione sono 184 mila 816 ossia anche qui il 98,18 per cento per Mannheim sono riuscito a trovare il numero dei casi di guarigione già confermati questo numero è uguale e pari a 135.170 che corrisponderebbe al 73,13 per cento quindi la differenza e i restanti casi sono ancora in osservazione o in via di guarigione per quanto riguarda a livello nazionale quindi per la Germania abbiamo una popolazione questi dati della popolazione diciamo sono aggiornati al fine 2019 di circa 83 milioni e 100 mila i casi positivi sono 1 milione 337 mila 0,78 i morti sono stati fino a oggi 21 mila 975 questo rappresenterebbe lo 0,0264 per cento quindi le persone già guarito o in via di guarigione le restanti la differenza diciamo sarebbe un milione 315 mila cento e tre che corrisponderebbe a un 98,35 per cento ecco questa è la tabella che ho ricavato oggi dai dati attuali alla giornata di oggi ricavati quindi dal sito del Robert Koch Institute che ha la sigla RKI andando avanti nelle mie ricerche sono venuta a conoscenza che in questo sito nel 2011 è stato lanciato un progetto che si chiama GrippeWeb cioè una raccolta di dati sull'influenza e questo è il portale online tedesco il primo portale tedesco che raccoglie dei dati sull'influenza e questo dal 2011 quindi l'influenza è categorizzata in due diverse categorie la prima si chiama Are e la seconda è Ili allora nella categoria Are acute, Atem, Weg, Erkrankung cioè sono gli stati acuti di malattia delle vie respiratorie in questi casi ci sono i casi con febbre oppure senza febbre e che presentano dei sintomi che siano o la tosse o il mal di gola nella seconda categoria la categoria Ili sono le influenze simili alle influenze degli stati influenzali delle sindrome influenzali non so come viene descritta in italiano nel secondo caso invece sono sicuramente tutti con febbre tutti con febbre più in più hanno la febbre e la tosse oppure la febbre e il mal di gola cioè devono presentare almeno due di questi sintomi a differenza della prima categoria che è la Are quindi c'è da dire che tutta la categoria Ili confluisce quindi nella prima categoria la categoria Are questo portale a questo portale le persone si possono iscrivere partecipano quindi delle persone che hanno la sintomatologia richiesta a un certo punto mi sono ritrovata che c'era una linea sulla tabella che rappresentava l'onda di infezione del covid-19 con una notazione praticamente questa notazione dice che i casi positivi per il covid non sono stati in questa tabella non sono stati presi in considerazione e riportano a una risposta in un altro link sempre del Robert Koch Institute ho seguito il link perché sono anche curiosa e volevo trovare delle risposte allora ho seguito il link mi sono trovata la pagina perché non viene quindi presa in considerazione la malattia sotto il nome di covid-19 e qui spiega che mentre per quanto riguarda le influenze c'è un sistema di controllo che è basato sui sintomi su dei particolari sintomi su questo covid-19 invece ancora la sintomatologia non è chiara inoltre molto simile a quella influenzale e anche a quella similare all'influenza e per questo motivo siccome molti sono anche positivi ma senza sintomi non hanno ritenuto opportuno includerlo in questa tabella anche perché spiega alla fine facendo dei calcoli riportando qui proprio dei calcoli vi metto il link perché se qualcuno vuole approfondire può andare magari a farsi una traduzione nella lingua italiana se dice fa un esempio alla fine se nella quarantunesima settimana del 2020 la quota di aree cioè delle influenze che abbiamo detto con o senza febbre e con una sintomatologia già evidente se questa categoria se questo tasso corrisponderebbe per esempio a un 4,2% che poi in questo caso è la situazione attuale al 27 ottobre 2020 allora dice presupposto presupposto che Durschnitt che la media di 12.000 casi al giorno di SARS-CoV-2 secondo l'Istituto della Salute che vengono quindi iscritti darebbe 84.000 casi di SARS-CoV-2 alla settimana se noi partiamo dal presupposto che tutti questi casi di SARS-CoV-2 siano con dei sintomi quindi con una reale malattia e quindi moltiplicheremo questo numero con un fattore 3 che sono dei fattori di moltiplicazione che usano quindi in Germania qui dice che ci sono studi che usano dal fattore 2 fino al fattore 5 dice moltiplicandolo quindi con un fattore 3 questo numero arriveremo a 252.000 casi di casi positivi al Covid-19 presumibilmente questo corrisponderebbe al calcolato sulla popolazione della Germania di circa 83 milioni a circa lo 0,3% questo significa che la quota il tasso are che al 27 ottobre era del 4,2% secondo questa statistica mentre il tasso Covid sarebbe con tutta una moltiplicazione per un fattore 3 raggiungerebbe al massimo lo 0,3% non sarebbe abbastanza come si dice rilevante non sarebbe così abbastanza rilevante e per questo motivo non viene preso in considerazione in questo portale un'altra cosa importante che dice che viene scritto in questo portale risulta che dal controllo attuale perfino l'influenza in relazione all'anno precedente si sia notevolmente abbassata non lo spiegano che sicuramente il fatto di aver imposto queste misure precauzionali quindi la distanza la mascherina tutte quelle misure di igiene un po' diciamo che rispetto agli altri anni sono state molto più usate hanno fatto sì che perfino l'influenza quest'anno abbia subito una notevole una notevole diminuzione per cui direi che la cosa è positiva però io questa tabella che riguarda l'influenza ve la pubblico sotto questo mio video per farvi vedere come la tabella come un'influenza che al 27 ottobre raggiunge un tasso del 4,2% in proporzione a una linea veramente bassa del covid-19 che non raggiunge nemmeno lo 0,3% e lascio a voi tirare le conclusioni io le mie le ho già tirate grazie a tutti per l'ascolto e alla prossima volta e alla prossima